Grazie Presidente, eravamo stati purtroppo facili profeti quando nei mesi scorsi dicevamo che c'era la possibilità concreta che le forze Unifil si sarebbero trovate sotto il fuoco dell'esercito israeliano, conoscendo l'assenza di scrupoli del criminale di guerra Netanyahu e la sua propensione alla sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario. Quindi non siamo sorpresi, siamo preoccupatissimi, ma non sorpresi di quanto accaduto, che è di una gravità inaudita, una cosa mai successa senza precedenti. Infatti è la prima volta che un esercito regolare di uno Stato sovrano e democratico, che è appartenente all'ONU, attacca delle basi ONU. Non era mai successo, era successo altre volte che milizie di terroristi o milizi irregolari l'avessero fatto. Mai uno Stato sovrano e un esercito regolare. Quindi la gravità è evidente a tutti noi. In più voglio sottolinearlo, Israele è un grande Paese, un Paese autenticamente democratico, dove c'è un dibattito vero e un confronto di idee anche su temi spinosissimi, quali la guerra, le soluzioni di pace con i palestinesi, la questione drammatica purtroppo in questi mesi degli ostaggi rapiti il 7 ottobre, il destino dei territori occupati. In Israele c'è un vero confronto e nessuno si sogna in Israele di dare all'avversario politico, a chi la pensa diversamente dal Governo, dell'antisemita, come succede invece sistematicamente in Italia, dove non si può esprimere una posizione senza essere bollati con questa infamia che noi ovviamente respingiamo. Ripeto, in Israele c'è un dibattito ampio che riguarda anche le occupazioni illegali dei territori in Cisgiordania e che riguarda anche Gerusalemme che è stata occupata e annessa illegalmente. Noi non siamo nemmeno sorpresi delle dichiarazioni dell'ambasciatore israeliano Alloneo, Danny Donan, che apro le virgolette, voglio citarlo testualmente, la nostra raccomandazione è che l'Unifil si sposti di 5 chilometri a nord per evitare pericoli mentre i combattimenti si intensificano e mentre la situazione lungo la linea blu rimane instabile a causa dell'aggressione di Hezbollah. Chiuse virgolette. E tra l'altro quindi per rafforzare questa, tra virgolette, raccomandazione ci sparano addosso, sparano addosso ai nostri militari che sono lì per portare pace. Questa è la vera situazione che abbiamo di fronte. In realtà quello che Netanyahu e il suo governo sta facendo è una vera e propria sfida che è stata lanciata all'ONU e quindi all'Italia, alla Spagna, all'Irlandia e alla Francia che assicurano la missione Unifil in Libano oltre agli altri Paesi extra Unione Europea. E quindi l'ONU, pur con tutte le sue mancanze, tutti i suoi difetti, rappresenta la volontà di ricercare a tutti i costi la pace in quella zona di mondo, in una terra che purtroppo c'è la guerra da decenni. E in questa sfida i nostri militari si trovano proprio sotto la bandiera delle Nazioni Unite, quindi dalla parte giusta della storia e della pace. Noi ci domandiamo se il governo Meloni avrà il coraggio di far fronte a questa sfida e per quanto è successo finora dobbiamo purtroppo constatare che non ha avuto alcun coraggio nel fermare il macellaio Netanyahu. Lei, Ministro, ha parlato di una possibile diversa postura della missione Unifil, di un suo rafforzamento, ma davvero ci sembra innanzitutto incompatibile con la situazione drammatica in cui versano i nostri militari, che tra l'altro in questo momento non hanno approvvigionamenti e si nutrono con le razioni da combattimento come se fossero in guerra. I militari a cui va tutto il nostro sostegno e tutto il nostro ringraziamento perché stanno rappresentando l'Italia nella maniera migliore e noi siamo orgogliosi di quello che stanno facendo. Però sulla sua proposta voglio entrare nello specifico. È inverosimile ipotizzare un rafforzamento dell'Unifil in tempi brevi, cioè prima di uno stop di questa aggressione di Israele alle basi ONU, proprio per i tempi dell'ONU che non sono di certo brevi e immediati. Ed è peraltro anche inutile parlare di un rafforzamento della missione dopo un eventuale stop di Israele, perché è del tutto irrealistico. L'unica vera strada per uscire da queste inutili parole, noi ne abbiamo sentite davvero un fiume di parole inutili da parte del governo Meloni, che addirittura mentre il genocidio dei palestinesi è in corso a Gaza, si diceva preoccupato non delle migliaia, delle decine di migliaia di donne, bambini e infanti che morivano a Gaza, ma si dichiarava preoccupato dell'isolamento di Israele. Allora, per uscire da questo fiume di parole inutili, fin qui dette dal governo Meloni, c'è da intraprendere la strada del coraggio. La strada del coraggio è già delineata, noi l'abbiamo detta tante volte, sono poche ma significative le azioni che questo governo e l'Italia dovrebbero prendere, quindi sanzioni nei confronti di Israele, il ritiro dei nostri ambasciatori, questo fatto di concerto con gli altri paesi europei, e lo stoppa la vendita delle armi verso Israele, perché contrariamente a quello che dice questo governo, da un anno a questa parte noi continuiamo a vendere a Israele le armi. Lo certifica oggi stesso, è uscito proprio oggi, l'ultimo dato dell'Istat che è aggiornato a luglio, quindi del 2024, che ci dà appunto un valore, un controvalore delle armi che sono state vendute a Israele, da un anno a questa parte, quindi fino a luglio, di 7,8 milioni. Questo è quanto potremmo fare di concreto e ripeto, non saremmo isolati, perché per esempio Macron, lo ha detto negli ultimi giorni, della necessità di fermare la vendita di armi a Israele. Noi dobbiamo far seguire alle parole i fatti, altrimenti queste parole rimangono inutili e il governo di Netanyahu, come ha fatto finora, valuterà queste parole per quelle che sono, cioè inutili. Occorre invece avere coraggio ed esercitare pressioni vere su quel governo, per significare che l'Italia, il nostro paese, l'Europa è assolutamente indignata e contro verso i crimini che questo governo Netanyahu sta compendo. Lo sottolineo, il governo Netanyahu, non il popolo di Israele. Sono due cose distinte e separate e noi questa distinzione ce l'abbiamo ben chiara in mente. Concludo, Presidente. Noi, oltre a non vendere armi, dovremmo anche smettere di avere rapporti commerciali su base bellica e quindi di acquistare armi da Israele, perché poi tra l'altro con un tempismo che fa cadere le braccia o gele il sangue nelle vele a secondo dei punti di vista. Proprio in questi giorni, ho concluso, Presidente, è arrivato in Commissione di Difesa un atto del governo che è testimone alla volontà del governo Meloni di acquistare missili Spike da Israele. Noi diciamo basta alla comprovendita di armi con Israele, sia di acquistarle e sia di venderle. Grazie. Per venderle, grazie.